Direttore, grande inizio di stagione dell'Akragas, in Coppa Italia batte nettamente 3-0 l'Igea Virtus. Sì, dico che innanzitutto faccio i complimenti alla guida tecnica di Marco Coppa, c'erano degli scetticismi per la sua persona, c'era dello scetticismo per tutto l'entourage che ha creato il padron Deni, e la risposta l'abbiamo data sia col campo che con tutto quello che riguarda immagine e comunicazione. Cosa ha fatto oggi la differenza tra l'Akragas e l'Igea Virtus? La differenza, devo essere sincero, è un nucolo di anziani pensionati, che abbiamo preso, perché abbiamo preso dei pensionati, e un nucolo di ragazzini sconosciuti che oggi hanno messo sotto una delle squadre quotate per il campionato di Serie D. Che sapore ha questa vittoria? Un sapore fantastico.